Appuntamento settimanale di La Diocesi di Lodi e al territorio del Lodigiano. Bentrovati a tutti voi, gentili amici. Vogliamo aprire questo nostro spazio di informazione parlando di un appuntamento che caratterizzerà la giornata di domenica 17 di aprile. Sto parlando del Giubileo per la famiglia. Inizieremo alle 14.45, ritrovo. Ci sarà un momento formativo che faremo a San Francesco, in chiesa a San Francesco. E poi ci spostiamo in pellegrinaggio alla Porta Santa per poi partecipare alla messa con il Vescovo. E alla fine della messa ci sarà un momento conviviale, una pericena, diciamo così. Il momento è pensato per la famiglia nella sua interezza, quindi sia genitori che bambini. Il primo momento sarà dedicato alla famiglia, quindi sarà un momento in cui parleremo della misericordia in famiglia e lo faremo insieme ai bambini nella chiesa di San Francesco. Poi i percorsi si dividono, quindi gli adulti avranno un momento forte di testimonianza. Abbiamo invitato Carlo Castagna che ci parlerà proprio del perdono nella famiglia, mentre i bambini avranno un loro percorso parallelo, fatto di giochi e attività suddivise per fasce d'età. Poi alla fine del momento, diciamo, di incontro con Carlo Castagna, riuniremo ancora le famiglie per arrivare al passaggio alla Porta Santa e poi alla messa. La messa con il Vescovo. Come vi siete preparati a questo momento? Allora, un bel momento, quindi partendo, diciamo, dalla bolla di indizione di Papa Francesco, abbiamo pensato che un momento specifico per la famiglia fosse importante e ci siamo preparati cercando di coinvolgere più famiglie possibili. L'idea è quella proprio di riuscire ad arrivare a tante famiglie della nostra diocesi, a tutte, l'obiettivo è un po' di arrivare a tutte. E abbiamo coinvolto nella preparazione alcune famiglie di tante parrocchie della nostra diocesi e poi abbiamo cercato anche di coinvolgere in modo particolare le famiglie della città di Lodi che ci aiuteranno appunto nella preparazione del momento di festa finale dopo la messa. Per questo momento è stato anche pensato e predisposto un volantino particolare? Sì, proprio per cercare di arrivare a più famiglie possibile, anche, diciamo, tutta la pubblicazione, insomma, tutte le pubblicità che abbiamo fatto e stiamo facendo sul nostro sito internet e sulla pagina Facebook, mirano a cercare di coinvolgere, no? Quindi il volantino è fatto in questo modo, si può dividere, è fatto apposta per poter avere un invito personale per la famiglia che parteciperà, ma poi per poter dare anche l'invito, nella stessa forma, a un'altra famiglia che magari generalmente non partecipa all'iniziativa diocesana, ma che certamente può essere interessata a questo momento forte delle famiglie. Divolgiamo quindi un invito alle famiglie a partecipare? Sì, l'invito è partecipate, sarà un bellissimo momento in cui la famiglia potrà davvero dire intanto quanto è bello essere famiglia e poi sicuramente quanto è bello poter riflettere insieme ai genitori e figli sulla misericordia e sul perdono, no? Papa Francesco ci ha sempre detto che la famiglia è luogo privilegiato di esperienza del perdono. Ecco, vogliamo provare a raccontarlo con un momento di festa come quello del Giubileo. Ed ora una proposta indirizzata ai giovani, proposta che proviene dall'ufficio missionario diocesano per vivere un'esperienza di missione la prossima estate a Rio de Janeiro. Un viaggio a Rio de Janeiro in Brasile, un viaggio sulla falsariga di quelli che stiamo proponendo in questi anni, cioè l'incontro non soltanto con una missione ma con una realtà, una realtà in tutti i suoi aspetti. Quest'anno sarà appunto Rio de Janeiro questa città immensa che ha al suo interno sia la ricchezza più sfarenata che è la povertà più degradata. Quindi noi andremo alla ricerca proprio dei luoghi di questa povertà per capire un po' meglio quella gente, quella popolazione. E ci agganceremo a un missionario che si chiama Don Cesare Padre Cesare Ciceri, è uno scalabriniano, il quale tiene una parrocchia vicino al porto e è anche il responsabile della pastorale del mare. Quindi ha a che fare anche con tutti i marinai, tutti i pescatori, tutta la gente che in qualche modo vive nel porto di Rio de Janeiro. A chi è rivolta questa esperienza? È rivolta ai giovani, dai 18 anni fino ai 35 anni, però se ci sono delle eccezioni sono ben accettate, le capiremo e le inseriremo perché l'importante è fare un'esperienza che sia un'esperienza non soltanto di visita ma anche di comunità, di gruppo e quindi se il gruppo c'è e quindi noi attendiamo una decina, una dozzina di persone, se il gruppo c'è poi anche l'esperienza risulta bella. Fino a quando sarà possibile iscriversi? Adesso non c'è più tanto tempo perché la cosa più urgente è fare i biglietti. Avevamo stabilito il 15 aprile come data di scadenza però ancora qualche giorno insomma attendiamo le iscrizioni. In vista di questa esperienza ci saranno degli incontri di preparazione? Sì, nel mese di giugno faremo almeno tre incontri per avvicinarci un po' sia alla pastorale appunto legata un po' alla città di Rio sia all'ambiente, la cultura, il sociale, un po' tutto. Mercoledì scorso c'è stato a Osagolo di Giano presso il santuario della Mater Amabilis il momento di preghiera dedicato ai malati e che ha cadenzato da ottobre dello scorso anno il percorso di avvicinamento a un appuntamento importante per quanto riguarda questo santuario di Osagolo di Giano dedicato appunto alla Mater Amabilis ovvero il novantesimo anniversario. Alla vigilia di questo momento abbiamo incontrato il parroco Don Alessandro Lanzani. Anche domani come accade dal mese di ottobre scorso ogni primo mercoledì di ciascun mese a Osagolo di Giano si svolgerà un momento di preghiera con i malati nel santuario della Mater Amabilis in vista del novantesimo anniversario. Questa Santa Messa per gli ammalati inizierà alle ore 15.30 con il Santo Rosario e alle ore 16 la Santa Messa che concluderà con la benedizione eucaristica nella forma lurdiana e con la supplica alla Mater Amabilis. Questa esperienza che è iniziata il 7 ottobre è stata portata avanti tutto l'anno e domani sarà con noi Don Bassiano Uge che è il vicario generale. È una messa particolarmente preparata per gli ammalati, per i devoti e per coloro che si affidano alla Mater Amabilis proprio in preparazione a questo novantesimo del santuario. Il novantesimo anniversario cadrà il prossimo 25 di aprile ed in vista di questo solenne momento è stato predisposto un programma articolato come cammino ideale di avvicinamento. Nel 1926 l'allora Vescovo Antomelli elevò a titolo di santuario la chiesa parrocchiale di Osago dopo i primi due miracoli. Il primo miracolo lo ricordiamo il 21 aprile del 1923 e il secondo miracolo il 29 aprile sempre nel 1923 a San Martino in strada. Ci stiamo anche preparando appunto a questo novantesimo che culminerà il 25 aprile alle ore 15 con la Santa Messa solenne presieduta dal nostro Vescovo Monsignor Malvestiti alla presenza di tutti gli ammalati dell'unità al Sidi Lodi e in quell'occasione incoroneremo, il Vescovo incoronerà la Madonna in questa ricorrenza dei novant'anni del santuario. Ci sono diversi appuntamenti che precedono questo momento. Il primo appuntamento sarà sabato 16 aprile presso la chiesa parrocchiale dove verrà presentato il nuovo libro della storia del santuario. Poi avremo domenica 17 aprile alle ore 17 il concerto bandistico della Filarmonica di Castiglione d'Addo in onore appunto della Mater Amabilis con canti mariani. E per tutta la settimana avremo i pellegrinaggi delle varie parrocchie del vicariato di San Martino che prepareranno la grande veglia che sarà il 24 di aprile una fiaccolata che partirà da Lodi in via San Martino dal luogo della casa del primo miracolo, via San Martino 2 alla presenza anche del Vescovo che presiederà e inizierà questo incontro questa fiaccolata che si svolgerà fino ad Ossago facendo sosta anche a San Martino in strada in via Vittorio Emanuele 124 dove c'è la seconda casa del secondo miracolo. Ecco sarà un momento grande, un momento bello dove invito non solo i parrocchiani certamente di Ossago ma anche tutti i devoti e tutti coloro che hanno ricevuto delle grazie e dei doni particolari dalla Mater Amabilis di Ossago Lodigiano. Remission ovvero un musical, uno spettacolo dedicato per il Giubileo della Misericordia e quanto è andato in scena presso il teatro nell'Oratorio di Spino Dadda. Allora un grande saluto in bocca al lupo agli amici dell'Oratorio di Spino Dadda per il loro musical Remission se siete bravi poi venite da me a Tussiche Valles, va bene? È una storia di perdono pensata e scritta in occasione del Giubileo della Misericordia effetti speciali, musiche e balli con un protagonista Don Federico diviso tra l'impegno in parrocchia, a scuola e nel carcere femminile. Un musical Remission che si è rivelato un successo grazie all'entusiasmo degli oltre 100 partecipanti. È un musical sul Giubileo della Misericordia. Possiamo definire Remission una sfida perché è un musical che nasce da zero, un musical che è costruito come storia a tavolino e ha come filo conduttore l'anno santo. In questo musical sono coinvolte più di 100 persone e da sei mesi circa stiamo lavorando con delle prove settimanali che impegnano tutti quanti, all'inizio divisi nei vari gruppi, i cantanti, gli attori, i ballerini e poi con delle prove assemblanti per mettere insieme il tutto. Penso che oggi Don Federico ci ha portato fuori a giocare con la neve, cioè o meglio, ci ha portato fuori per spiegarci dell'Immacolata, il Papa e del Giubileo. Siete fortunati ad averlo come professore, è proprio una grazia. Io sono Gaetano e interpreto il ruolo di Riccardo. È un ragazzo che ha un po' paura di perdonare all'interno del musical. Diciamo che Riccardo ha fatto parte anche un po' della mia vita e mi ha insegnato a perdonare appunto. Una delle frasi che dirà all'interno del musical è che l'amore vince su ogni cosa e secondo me è una grandissima verità. Ricci per allontanare ciò che ci tormenta qua Con la forza puoi sperare che il passato passerà Nel nostro musical Remission ci sono tre colori perché tre sono i grandi ambienti che tornano in questo musical. Il fucsia che è il colore del carcere. Infatti uno degli ambienti che emerge in questo musical è quello delle carcerate. Un carcere tutto in rosa, tutto in fucsia perché tutto femminile. L'altro colore è l'azzurro perché c'è anche il mondo della scuola. Don Federico che è il protagonista cardine che lega i diversi ambienti è presente nel carcere, è presente nella scuola e nel terzo ambiente caratterizzato dal giallo che è la parrocchia. È la mia prigionia che mi distruggerà È la mia prigionia che mi sotterrerà Io sono una delle carcerate e quindi sono una di quelle vestite di rosa. È il terzo anno che faccio il musical qua all'oratorio ed è sempre un'emozione ogni volta anche se facciamo tante date comunque ed è molto bello sempre vedere tanti ragazzi che si impegnano e ci mettono veramente passione in quello che fanno e siamo una famiglia praticamente cioè diventiamo veramente una famiglia ci supportiamo a vicenda anche nei momenti un po' più difficili quando ci sono delle difficoltà, dei disguidi e siamo tutti unitissimi Il nostro musical ha un logo che porta in sé il titolo Remission e un segno, un simbolo il rosario Perché? Perché il rosario è il filo conduttore di questo musical infatti all'interno ci saranno, ci sono dei quadriscenici che raccontano i misteri del rosario e perché la nostra esperienza è come un rosario tante persone, tanti grani tenuti insieme dall'unico filo che conducano la croce di Cristo Perfetti come macchine Miracolo di nervi e d'anime Io non ti chiederò perché Mi stringo e credo a te Siamo fatti per amare Sono Sara Faccio parte del gruppo classe Noi interpretiamo una parte per quanto riguarda la prima parte nell'inverno e facciamo una scenetta anche nella primavera e una nell'estate Sono molto emozionata perché comunque la danza è sempre stata la mia passione fin quando ero piccola e insomma è una bellissima esperienza per me fare questo musical A livello anche di compagnia mi sono trovata molto bene perché siamo tutti molto legati ci aiutiamo a vicenda Per me è stata una crescita sia a livello personale che per quanto riguarda la danza e niente spero possa venire bene e spero vi piaccia il musical E' un'esperienza che ti fa crescere con cui impari a stare con gli altri e comunque è un'esperienza toccante Questo musical ha un messaggio direi fondamentale che è quello del perdono partendo proprio dalle storie dei protagonisti di questo musical e la loro fatica nel perdonare qualcuno Ecco che questo musical ci insegna a fare un passo in avanti verso la misericordia e il perdono Parliamo di cinema adesso ovvero di 12 film sul tema della misericordia La Porta Santa che quest'anno risuona spesso sia nelle immagini che vediamo alla televisione o anche tutte le esperienze che possiamo aver fatto localmente nelle nostre diocesi è un po' anche un'esperienza che si può avere anche attraverso il cinema cioè proprio la possibilità di smurare alcune dimensioni di rigidità di sofferenza, di dolore che hanno reso il nostro cuore a volte impenetrabile come accade con il cinema accade proprio anche che di fronte allo schermo anche se la storia che viene raccontata non è la nostra in realtà noi ci mettiamo in una condizione di grande ascolto emotivo e empatico di quella storia che minuto dopo minuto può diventare invece molto nostra infatti il nostro cervello, il nostro cuore in qualche modo si adagia proprio nei confronti di personaggi che fino a pochi minuti prima non erano così conosciuti e importanti per la nostra vita quindi il cinema è uno dei linguaggi che ha la capacità di disarmarci di più e di renderci capaci di ascoltare storie che nella vita normale potrebbero sembrarci impossibili e difficili anche da reggere quindi noi consigliamo il cinema perché ha la capacità di dire a un uomo a una donna di qualsiasi età che si può essere capaci di un amore infinito di una tenerezza illimitata, di un perdono che a volte nella vita non siamo in grado di dare le persone anche nei momenti di dibattito dopo un film vengono aiutate tramite una riflessione che ha a che fare con le dinamiche di vita vissute da quel personaggio a poter recuperare le proprie dinamiche di vita però vorrei dire che non si tratta solo di un fatto delle cose che vengono dette dai personaggi ma proprio perché il cinema è anche come i personaggi vengono messi in scena tante volte un regista ha la capacità magari di raccontare quel personaggio senza avere uno sguardo a priori giudicante nei confronti appunto di quella storia ma magari ha uno sguardo come quello che ci ha anche così consigliato Papa Francesco con le sue parole in questi ultimi giorni quando dice che la misericordia non ci lascia mai fermi, inermi ma ci consente sempre di offrire un'occasione in più di andare incontro a quella persona che si è aperta e di godere del fatto che quella persona magari si accorge che noi gli stiamo offrendo un'altra opportunità Passiamo ad altri temi, ora con i prossimi servizi parliamo della disoccupazione nel territorio del Lodigiano e di quello che è un servizio, un'istituzione che l'amministrazione comunale di Lodi ha varato già da alcuni anni e inteso a aiutare e sostenere alcune persone disoccupate residenti nella città capoluogo ne abbiamo parlato con l'assessore delle politiche sociali Silvana Cesani Sono gli ultimi dati che sono pubblici, sono pubblicati sul sito della provincia abbiamo una grossa sorpresa perché nonostante quello che si dice che c'è una ripresa, a febbraio 2014 c'erano nel nostro territorio quindi tutto il Lodigiano 21.156 disoccupati a febbraio 2015, quindi l'anno dopo, 23.397 quindi quasi 2.000 disoccupati in più a febbraio 2016, quindi un mese qualche giorno fa ci si aspettava una minore disoccupazione intervenendo il Jobax e tutte le altre misure e scopriamo invece che la disoccupazione è diminuita solo di 50 unità quindi da 23.397 a 23.324 quindi meno di 60 persone in meno di disoccupati quindi il tema della disoccupazione è altissimo nel nostro territorio e questi numeri ovviamente incidono per la maggior parte nel Comune di Lodi essendo il Comune più grande, il Comune capoluogo e quindi in questi numeri sta dentro la necessità di promuovere ancora il Fondo Anticrisi Entriamo allora nello specifico dell'iniziativa proprio riferita al Fondo di Solidarità Anticrisi il riferimento al 2015 per quel che riguarda il Comune di Lodi riguarda 58.500 euro a favore di 37 persone senza lavoro che hanno prestato 6.600 ore di lavoro volontario nello specifico ricordiamo in che cosa consiste questa iniziativa del Comune Sì, allora è un'iniziativa che si può fare grazie a più persone, enti e associazioni che intervengono allora il Comune di Lodi mette a disposizione, ha messo a disposizione nel 2014 poi nel 2015 e anche nel 2016 lo metteremo a disposizione un fondo importante attorno ai 50.000 euro per sostenere le famiglie e le persone disoccupate che sono in difficoltà attraverso questa formula abbiamo provato a dire guardate il tema della disoccupazione non è una responsabilità individuale è una responsabilità sociale e collettiva noi proviamo a dare 400 euro per 5 mesi a chi è disoccupato di recente insomma in modo che non cada in una difficoltà molto grande purché abbia la possibilità, la volontà di restituire alla propria comunità quindi alla città, 10 ore di lavoro volontario presso associazioni o cooperative sociali E parliamo di questa proposta che è stata riformulata anche per il 2016 ovvero diamoci una mano È un'iniziativa appunto per la raccolta del 5x1000 e prima di tutto con questa raccolta noi vogliamo prima di tutto ringraziare i cittadini che negli scorsi anni hanno scelto questo progetto con il loro 5x1000 questi soldi sono andati a sostenere questo tipo di progetto quindi come amministrazione comunale li abbiamo messi a disposizione del fondo anticrisi si è prodotto un welfare generativo che noi vogliamo sostenere non vogliamo essere un comune assistenziale vogliamo essere un comune che fa welfare municipale nuovo Nei giorni scorsi è stata estesa ormai a titolo definitivo in tutta la città l'attivazione del servizio di raccolta rifiuti porta a porta ne abbiamo parlato con l'assessore Ferrari Con l'estensione del servizio a San Bernardo e all'Albarola la raccolta rifiuti porta a porta è in funzione in tutta la città di Lodi per una popolazione di quasi 45.000 abitanti un sistema introdotto per la prima volta nel maggio 2011 nel centro storico Un quartiere che cambia, l'Albarola l'ultimo dei quartieri che si è aggregato a tutti gli altri della città e quindi oggi finalmente Lodi ha il 100% porta a porta è un risultato straordinario in pochi mesi di lavoro grazie all'impegno in primis dei cittadini che hanno risposto positivamente a un modo nuovo di raccogliere i rifiuti e di utilizzare anche i rifiuti all'interno della propria casa al personale comunale, al personale di linea gestione ai vigili urbani che hanno tutti insieme collaborato per questo progetto importante non facile perché abbiamo visto anche altre città le difficoltà che spesso incontrano ma diciamo ha prevalso il senso civico e di questo siamo particolarmente orgogliosi girare per i quartieri nuovi dove il porta a porta è in funzione da qualche giorno e vedere le vie pulite è davvero una grande soddisfazione Qua all'Albarola è stato adottato un metodo nuovo? Sì, il metodo nuovo è un sistema che ha permesso di risolvere una criticità l'unica vera che abbiamo avuto su tutta la città che era quella di dare risposta ad alcuni condomini che non avevano un spazio fisico per i famosi carrellati e quindi questo non per favorire nessuno ma semplicemente per uniformare un processo di raccolta porta a porta sono stati posizionati alcuni cassonetti apribili esclusivamente con una tessera dedicati a pochissime situazioni che appunto avevano difficoltà a posizionare all'interno delle proprie abitazioni o all'interno del proprio palazzo i cassonetti Per quanto riguarda i dati sull'andamento della raccolta differenziata nel 2015 quando i cittadini serviti dal porta a porta in 12 mesi sono stati circa 18.000 è salita al 55% rispetto al 52% del 2014 crescendo fino al 60% nel primo trimestre del 2016 con 33.000 abitanti serviti è stato attivato anche un numero verde per i cittadini? Sì, il numero verde è il numero verde di linea gestioni molto importante adesso tantissimi cittadini ogni giorno si rivolgono per avere consigli ma anche per avere indicazioni su come conferire i rifiuti Si chiude qui questa puntata di Laos A voi gentili amici grazie per l'attenzione e l'appuntamento è la prossima settimana con altre notizie dalla Diocesi di Lodi e dal territorio dell'Odigiano Arrivederci Grazie a tutti